Buongiorno, siamo qua a Pietrasanta per la Francigena Tusca di Marathon, Adriano Bigongiari, uno degli organizzatori di questo evento. Allora, la piazza si sta riempendo, sono le 6.50, mancano 10 minuti alla partenza e come vedete le persone sono già qui. Allora, abbiamo qui con noi Claudia Biagioni. Claudia, grande Claudia. Allora, come mai sei qua? Come mai e soprattutto di questo evento? Perché ho partecipato per la prima volta quest'anno all'altra ultra, alla maratona acquapendente Montefiascone e siccome ci è piaciuto tantissimo l'evento e abbiamo partecipato anche, abbiamo conosciuto. E qua, che ti pare? Qua, secondo me, l'organizzazione è stata veramente grande, almeno per ora, cioè tutto eccezionale, emozionativo. Vediamo nel tempo, dai. Grazie, ciao. Poi qua abbiamo anche Valentina. Ciao, buongiorno. Allora, come va? Stamani tutto a posto? Prima volta che partecipo a qualcosa? Prima volta che partecipo alla maratona. Bene, che ne pensi? Ottima organizzazione, secondo me tutto sarà perfetto e poi ci rivediamo in fondo e vi lo racconto poi dopo quando arrivo. E qui abbiamo Giorgio, grande Giorgio. Nonostante mal di gola e tosse la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Comunque lo stato della piazza è questo. Dieci minuti alla partenza, duemila persone. Ci sentiamo avanti. Ciao, Adriano Bigongiari, Pietro Santa, Francigena Tusca di Maratona. Questa guarda, Francigena Tusca di Maratona. Cosa ha fatto nel bravo? E anche per il cavo e il ponce. Grazie a tutti.